Buongiorno a tutti, questa è una precisazione e ci tengo a farla. Intanto devo chiedere scusa all'assessore Grimaudo Selene per avere letto il solo nome Selene, forse dando l'impressione di mancarle di rispetto, chiamandolo appunto per nome. L'errore è mio perché, come sapete, ho pochi minuti a disposizione e quindi devo correre nella lettura delle delibere. Non sono amico della signora Grimaudo e credo di averla vista una o due volte nella mia carriera di preside, quindi rinnovo le scuse. Per quanto riguarda invece l'assessore Grimaudo, vi voglio leggere quello che ha scritto. Consiglio al signor Lucchese di Clic di fare informazione seria, obiettiva e veritera, piuttosto che sparare sempre a zero sull'amministrazione comunale. Avere delibere regolamenti e poi commentarli a proprio piacimento, senza riferimento reale, senza essere aggiornati sulle leggi statali degli enti locali, e non dire come realmente sono andati i fatti, addossando falsità su un'amministrazione che aveva tutta la volontà di sostenere una banda musicale, mi sembra di una scorrettezza che mediaticamente colpisce chi non sa come stanno i fatti e prende per oro colato tutto ciò che gli si dice in tv o su Facebook. Ricordiamo che il signor in questione non è nemmeno giornalista. I giornalisti si attengono a regole di etica e lui invece no. Allora, per quanto riguarda quello che l'assessore Grimaudo ha scritto nei miei confronti, devo precisare alcune cose. Prima, ho sempre fatto informazione seria, perché il sottoscritto non fa inchieste né scoop, come fanno i giornalisti, ma legge solo gli atti che vengono pubblicati all'albo pretorio, che sono atti pubblici. E se ci sono cose che so fare, almeno due, consentitemi di saperle fare. So leggere e scrivere. Quindi leggo e non li commento a mio piacimento. Quello che è scritto si dice, leggere si vuole. E i miei sono riferimenti reali, delibere dell'Aggiunta, delibere di Consiglio Comunale, delibere del Sindaco, del termine. Non sono cose che mi invento. Quindi non dico falsità. Se l'assessore Grimaudo ritiene che la mia non è informazione corretta, perché non so come sono andati i fatti, può venire in redazione a raccontare la sua versione. Sarò ben lieta di poterla ospitare per chiedere e chiarire quello che lei ha detto. Dirò di più. Se ci sono leggi che io non conosco, e mi riferisco al premiato complesso bandistico Città di Alcao, me li può fare conoscere. Sar lieto di rettificare. Ma il sottoscritto, legge come ho detto, delibere dell'albo pretorio, non fa altro. Leggendo quanto ha scritto l'assessore Grimaudo, mi permetto, non per polemica ovviamente, di dire che l'amministrazione aveva tutta la volontà, dice, queste sono parole sue, di sostenere una banda musicale, non una, ma doveva dire il premiato complesso bandistico Città di Alcao, perché non è una banda musicale. E questa una la dice lunga su come viene considerato il complesso bandistico, che è vanto di Alcao. L'assessore Grimaudo dice che il sottoscritto non è un giornalista, ed ha perfettamente ragione. Non l'ho mai detto. Il sottoscritto è pubblicista, non giornalista, e la differenza è molta. Io non faccio né inchieste, né contro, né a favore di alcuna parte politica. Leggo, ripeto, delibere. Ora, come sempre, io sono pronto a rettificare. Però vorrei far sentire all'assessore Selene Grimaudo quello che ha detto James Grillo. Cosa ha scritto? Anche come ex sindaco, lo ha fatto nel 1984-85, ed ex consigliere comunale, lo ha fatto dal 1980 al 1990, condivido tutto con Vincenzo Lucchese e mi vergogno dei miei successori attuali, sindaco e consiglieri, che dimostrano di non avere il senso delle istituzioni comunali, misconoscendo il premiato complesso bandistico città di Alcao. Io non lo voglio dire chi è James Grillo, cioè ex sindaco di Alcao, però mi fa piacere che lui è d'accordo con me. E quindi se lui avesse ritenuto che io facevo informazione così, eccetera, eccetera, lo avrebbe detto. Invece ha detto che è d'accordo con me, che sente vergogna per il sindaco e i consiglieri comunali. Bene, io non devo dire altro. Aspetto la signora assessore Selene Grimaudo, se ha cose da dirmi, se ha cose da mandarmi, legge nuove che io non so, io sono disponibile a leggerle e a dire tutto quello che c'è da dire. però devo esserne informato. Io non vado a fare ricerche da nessuna parte. Io vado all'albopretorio, prendo le delibere e le leggo, e non le interpretro perché io le leggo, cioè parola per parola, punto e basta. Bene, vi ringrazio come sempre della vostra cortesia e attenzione e ringrazio l'assessore Selene Grimaudo per quello che ha detto e io, ripeto, l'aspetto qui se vuole. Oppure può mandarmi un email. Grazie. 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 Grazie.